Ciao ragazzi, bentornati nel vostro video, eccoci qua tornati finalmente in un nuovo video siamo arrivati con questo incredibile video per Supreme perché mi hanno pagato giustamente, credici puoi lasciateci un like perché scommetto che questo video vi lascerà di stucco e scommetto che vi farete anche qualche risata perché come volete sapere no, tutti, tutti quanti conosciamo Supreme perché già da uno o due annetti comunque l'hanno conosciuto tutti tra Instagram e video su YouTube e ovviamente Supreme, vabbè, ci sono le cover della Supreme le magliette, tutti i vari logo in plastica, ricamati, le targhette che sono anche carine ma scommetto, scommetto che tanti di voi non sapranno che ci sono tanti altri oggetti perché non ci sono soltanto, diciamo, vestiti o comunque cose dell'abbigliamento ma ci sono anche degli oggetti perché ragazzi, e mi rivolgo dopo ai ragazzi e ai ragazzi di maschia ci sono anche i preservativi della Supreme una cosa che sicuramente voi non sapevate io lo so che non lo sapevate quindi se avete dei problemi, no, in quanto lunghezza o performance a letto con la vostra tipa o magari con una cagna potete usare i preservativi della Supreme e dire, yeah bitches gang, it's scary è anche il campanello della Supreme e quindi ve la darà istantaneamente e poi con Supreme, il Supreme preservativo Avrete anche la cugina Supreme Gang, scary Poi abbiamo anche la pistola Spara soldi, spara dollaroni Perché arrivo sempre a metà di sti video di me? Si sta, si sta Poi ragazzi adesso c'è proprio la combo Perché abbiamo il martello Supreme Le mazze da baseball Supreme Sempre mazze da baseball Ecco, sempre mazze però non Supreme Le stintore Le mazze da baseball piccoline a portachiavi Il piede di porco Questo ha paura di scriverlo No forse Cazzo è Sembra tipo un rossetto Ma è la punta delle mazze da baseball Boh L'istintore Supreme Così potete spegnere il fuoco che c'è dentro casa Con stile Ah si è tipo L'armonica L'armonica Supreme E poi i guantoni Ferma le cartine Le cartine Supreme Gag Su punto datemi la droga Ecco vedi Le carte Ci volevano le carte da briscola Supreme C'erano le carte dei pokemon Ma c'è niente quello lì Quelle che si chiamavano E' lo zippo Si Supreme Si Le bacchette del sushi Supreme Per poter prendere proprio il sushi gang Sushi gang Le manette Quelle che mi metteranno Anche le manette Quello che mi metteranno a me E anche la tassa La tassa per i rami Supreme Supreme Yeah Proprio quando hai soldi Non te ne vergogni Proprio Nuova canzone Sushi Supreme No Robo per la barba Supreme La pala Supreme Per vangare la neve Quando viene l'inverno Per seppellire i cugini molesti Dopo averli ammazzati Parliamone Per quelli che c'è nel cane Che ha davvero tanto stile Supreme La ragazza Con tanto stile Anche Anche la ragazza Il guantone da box Per i veri palestrati Che devono usare proteine E doping Se sei una vera geisha Devi avere proprio stile Se sei mia nonna Che ha sempre Bisogno di un ventaglio D'estate Nonna Per una volta Pigli Di farlo con stile E poi Per l'estate Mi raccomando Mettete i soldi da parte Perché ci vuole anche Te lo supprime Così appena vai a fare il bagno Te lo inculano subito No Con L'aggiunta Una figa Anche la tipa Quindi Gang Ci sta Ci sta Anche da mettere sul di mano 100.000 Like Lo compro Lo metto qua Sul divan Per i video Te lo inculo Dopo la prima volta Che lo vedo Non ci dura più di due puntate Te lo inculo Ecco il motivo Perché lei viene a fare i video E io mi ritrovo E io mi ritrovo Sempre più povero Ecco perché Schimicare Bere Boh Le ciabattine Con la scritta Supreme Che si interrompe Da una parte Per cui se ne perdi una Sei pure inculato Sì infatti Sento che Ti prendi un'altra cosa Porta borraccia No forse Boh Però è brutto Porta borraccia I boxer In accompagnamento Col preservativo Supreme Che fa merda Tutti e due Però Si è Però ci stava La scritta Proprio Sopra al pacco Cioè sul pacco C'è un piccolo problema Il 90% Di quelli Che si mette Ste mutande qua Penso che faccia Merda Le mutande Il preservativo Oppure il cazzo No ma il fatto è che Tieni le mutande Per coprire Quello che risolge Così uno dice Non sono messo bene No Però almeno C'è lo stile Gang Quindi E poi Guarda E' proprio Tipo il dado Da notare Sono i doni Sì sì Non solo La scatta Fiaschetta No è una fiaschetta Cos'è una fiaschetta Sì tipo Per i veri militari Gang No perché Per i veri armonizzati Ma eh Però di solito È tipo in acciaio Siamo tipo Questo è un muovo di plastica Per soft air Quando va in mezzo ai boschi Sei così Per una pallina Che ti pare Di sopra Sopra tutto Trovo tipo Muoiono La così Gang Tipo Li ritrovano Fa Questo era Della Supreme Gang Questo è pregio Ha ricoperto Lo scritto No quelli sono soldi Bene ragazzi Quindi questo video Può finire qua Io spero che questo E' scherzo Vi sia piaciuto Se così è stato Ha lasciato un bel gang Qua sotto Io scommetto Che questo video Vi sarà piaciuto tantissimo Visto che C'è arrivata anche La comparsa Della cugina Come al solito Ti ricordo Il link È sottovizione Per seguirmi Il link Di Instagram Il link Dalla mia telecanale L'indirizzo Per i pacchi Noi siamo In un prossimo video Mi raccomando Stay tuned Stay Patrick Bella Bye 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 Ciao